Ricordate la parola, significa che siamo più vicini a Dio. Santa Rita è una santa riconosciuta e amata in tutta l'Italia, ma in particolare qui a Salerno è molto diffusa questa devozione, anche perché è una santa che in tutte le fasi della sua vita ha avuto come prerogativo quello di fare la volontà di Dio. È una santa particolare a cui tutti si rivolgono per i casi difficili. La Chiesa ogni ora c'è una celebrazione ed è sempre piena. Speriamo di andare al di là della devozione a una statua, ma di portare nel cuore e nella mente dei fedeli lo spirito di Santa Rita che dà loro la forza di affrontare qualunque difficoltà.